Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 7 maggio e parliamo di analisi ciclica e voluta su DAX e su Fuzzimib. Mi auguro che abbiate ascoltato l'analisi precedente, quella della serata, perché è sempre molto importante per poi partire con la giornata. Inizio a farvi notare alcune cose su DAX. Prima di tutto, dove abbiamo rimbalzato per ora con una candela da ieri sera? Ora, anche se non avete a disposizione un algoritmo, abbiamo sempre tutti a disposizione Fibonacci, che è un altro strumento interessante, che si può utilizzare con la ciclica e voluta. Da qui, come al solito, faremo lo stesso identico discorso che abbiamo fatto per quanto detto ieri sera, dopo la creazione di questo massimo, e per quanto detto anche dopo questa. Peraltro, avendo già massimi appunto precedenti molto vicini, sappiamo che il primo punto di attenzione e controllo sarà quello a 10.698. In caso di violazione e di creazione di un T-5 realzista, sappiamo che da questo minimo partirà eventualmente anche soltanto un terzo T-3, se non il quarto, per le ragioni spiegate precedentemente. E che si possono spiegare rapidamente a chi mastica di ciclica, raccontando che qui ci sono già 75 barre e quindi tranquillamente un T-1 a 3 tempi. Soprattutto se parliamo di DAX, se invece parliamo poi, come vedrete, di Fuzzimib, assolutamente no. Per cui, nel caso andassimo in violazione, oltre le 44 barre di questo minimo a 10.598, che adesso funge da minimo assoluto, da swing assoluto inverso, dopo, peraltro, la creazione del T-5 rialzista o laterale rialzista di cui vi parlavo, ovvero un'ora e mezza, di salita lateralizzazione ma non violazione di questo minimo, potremmo fare determinate operazioni. Capite? Già soltanto in apertura di mattinata possiamo avere delle informazioni che con altre tecniche non si possono avere. Violazione di questo swing a 10.698 inizia a darci delle informazioni importanti, insieme alla violazione eventualmente dell'accumo. Violazione di questo minimo, stessa identica cosa, per cui ci permette tranquillamente di valutare, potendo conoscere anche le regole relative al tempo ciclico, tante tante cose. Tornando a noi, facciamo un ragionamento non soltanto relativo all'indice, per cui tranquillamente qui può essersi chiuso il secondo o il terzo t-3, come detto, ma andiamo a fare il controllo sull'inverso. Sempre come raccontato ieri nell'analisi precedente, qui siamo arrivati a 23 barre. Abbiamo superato la durata minima per la chiusura di un t-3 inverso. Per cui su questo massimo, o eventualmente su uno successivo insuperamento della media mobile a 50 periodi, avremo anche altre informazioni, perché se si continuerà a salire, il quarto t-3 inverso continuerà a dover chiudere. Nel frattempo, grazie al fatto che qui abbiamo avuto una fortissima discesa a partire da qua. Uno, due, tre t-3 inversi, di cui l'ultimo che è stato ribassista. Se andremo in violazione di questo massimo, avremo altre informazioni utili ad un analista ciclico. Se invece non ci andremo, ne faremo altre. Oggi vi do degli spunti, più che fare un'analisi, questi spunti devono servire a fare una semplice riflessione. Ci capisco qualche cosa di quello che Jacopo sta dicendo? Nel caso la risposta sia sì, fantastico, ha senso continuare ad ascoltare, se ci si trova del valore, questo genere di analisi. Anche perché offrono spunti di riflessione importanti per sapere se posizionarsi long, short o alto durante la giornata. Tra l'altro, con riferimento a cicli più grossi. Se invece non si capisce nulla di quello che sto dicendo, sarebbe meglio fare una delle due seguenti scelte. Una, abbandonare il canale e lasciare perdere queste analisi perché non sono chiare e non si ha voglia di fare formazione. Seconda cosa invece, dire ok, la cosa mi affascina, mi interessa, voglio fare formazione per capire cosa diamo. In base alla risposta che vi darete, avrete in entrambi i casi il mio rispetto e in entrambi i casi si capirà che cosa volete veramente fare a livello di trading. Quindi, se volete essere curiosi e giocatori e renderli indipendenti da qualsiasi altro analista e trader, me compreso, oppure se volete andare avanti con i risultati che avete in questo momento. Ritornando all'analisi più importante, allora, come detto, 24 barre, quindi siamo arrivati a un t-3 rialzista inverso. Per ora il quarto t-3 inverso. Questo lancia un secondo t-1 inverso, per cui strategia. Finita la salita, quando avremo effettivamente un massimo che temporaneamente non verrà violato per un pochino di tempo, anche soltanto un paio di candele, ragioneremo di t-5 inverso rialzista e vedremo se ci sarà un vincolo eventuale successivo dopo l'ora e mezza circa, anche qualche cosa di meno, un'ora e un quarto, a rialzo, ovvero a ribasso di inverso che ci spingerà verso l'alto e quindi verso questi livelli, 10.751. Ma prima dovremo fornare questo anello verso il basso che lo farà dopo questa candela, dopo la successiva o alto, lo vedremo a breve. Quando questo t-5 che fa l'anello verrà formato avremo ulteriori informazioni oltre ai 2 swing e qui abbiamo già un'altra informazione subito sul campo in questo momento. Sappiamo che c'è la forte possibilità che a meno che non si vada immediatamente sotto questo minimo da qui, se oltre queste due candele ne avremo almeno altre 2 barra 3 sopra questo minimo starà partendo un nuovo t-3 che può avere spinta verso l'alto e come detto ci può riportare verso questi livelli verso la chiusura del quarto t-3 inverso ed allora, dopo quell'anello che dicevamo potremmo fare decisioni ancora più competenti relativamente a che tipo di trading fare oggi. spero di essere stato chiaro su DAX per quanto riguarda il discorso su Fuzzinib molto similare dovremmo avere una spinta verso l'alto ma attenzione perché in questo caso siamo in ritardo siamo al secondo t-3 e non siamo al terzo t-3 anche in questo caso occhio all'inverso perché da questo massimo abbiamo che siamo arrivati solo a 21 barre su 24 minimo di spinta che ci servono per avere un t-1 inverso in rampa di lancio e anche qui, semplicissimo se andremo in superamento di questo minimo avremo il resto del t-1 inverso vincolato a ribasso e quindi con la possibilità di continuare ad andare verso prima la media mobile a 200 periodi poi la chiusura del gap up e poi avanti se ciò non avverrà attenzione perché abbiamo questo swing inverso che può dirci tante cose anche perché dopo un t-5 di indice a rialzo che lanci un nuovo t-3 qui non abbiamo avuto la violazione dello swing per adesso in violazione di questo minimo invece ci metteremo short target la chiusura di questo gap down questo per dirvi quanto la ciclica evoluta sia molto adattabile a qualsiasi cosa possa succedere per cui la provisione è il trade stesso prettamente operativo lo si fa anche a prescindere delle proiezioni fatte a inizio mattinata spero di essere stato estremamente chiaro vi ringrazio per il vostro tempo se l'analisi vi è piaciuta mettete un like sottoscrivete il canale cliccate sulla campanellina verrete sempre avvisati di quando arriva una nuova analisi buona giornata a tutti